Credevamo di potercela fare, eravamo convinti di potercela giocare, non dico alla pari perché ovviamente loro avevano il vantaggio di avere un blasone, di avere un peso che noi in quel momento non potevamo avere, però dopo quello che era successo in campo abbiamo capito dopo le due sfide, anche se sono state perdenti, che potevamo giocarla alla pari e l'abbiamo giocata alla pari, magari solo nella prima partita a porte chiuse dove dentro c'erano più napoletani che non si sa come, ma erano più napoletani, sentivo solo voci napoletane a Madrid, l'unico errore fu quello di chiuderci negli ultimi 20 minuti subendo la loro offensiva lì, secondo me si è deciso la doppia sfida, quando loro entrarono al San Paolo capirono che non sarebbe stata una serata molto semplice, secondo me lo capirono anche già dal sottopassaggio a dire la verità, si era capito che c'era un ambientino quello che ci avevano fatto a loro volta trovare a Madrid, non ti posso dire quello che ho fatto a Martin Vasket qui a Michelin, ma è ovvio che ognuno metteva in campo le proprie armi e tu devi essere uomo a 360 gradi per accettare e sentire cose che non vuoi sentire, d'altronde si è uomini, sia ragazzi, sia persone, perciò qualcuno può intimorirsi, può impaurirsi e gioca un'altra partita da quella che avrebbe giocato se si fosse trovato in un ambiente sereno, i giocatori di quelle squadre lo capivano e perciò il peso era già prima della partita, arrivavi già che era in tensione prima della partita e anche quella doppia sfida è stata esaltante e i napoletani pensano che ancora si ricordino quel tempo, quel primo tempo strabiliante di quella squadra che annichilì assolutamente il Real Madrid e solo per fortuna il Real Madrid, passò in denne e purtroppo la qualificazione poi col gol di Bruttaghenio a un minuto dalla fine, finì lì al 45esimo del primo tempo. Io mi ricordo che sì esultammo, ma sono sicuro che ci dicemmo che dovevamo continuare così perché per noi era una cosa tra virgolette normale aver recuperato dopo 9-9 minuti del primo tempo uno dei due gol che avevano subito al passivo, perciò assolutamente credere di poter segnare anche il secondo gol di fatti solo tra virgolette la grande fortuna del Real Madrid di buio che era in porta salvò dal secondo gol di Careca, una volta si lavorava tutti insieme, magari era più divertente perché mentre correvi facevi la battutina, adesso è ovvio c'è una preparazione tattica molto più evidente, molto più importante, anche perché adesso ormai le squadre sono tutte attrezzate, almeno dal punto di vista tattico è tutto attrezzato e perciò devi trovare qualcosa, i punti liberi delle squadre e devi analizzarle come fanno attraverso il computer, penso quelli che analizzano i componenti dello staff di Sarri ma anche di altre squadre ovviamente, è diventato tutto molto più meticoloso, una volta era tutto molto più istintivo, in campo si creavano delle situazioni e magari il giocatore in quel momento creava la situazione per sopperire a quel momento, era totalmente un'altra cosa, io dico che partono alla pari, diamo l'1% in più al Real Madrid perché ovviamente avendo vinto due coppe negli ultimi tre anni, ovviamente gli devi dare un vantaggio dell'1%, ma è la squadra ideale per il Napoli, questo Napoli, tre attaccanti così che ti saltano l'uomo, che vanno negli spazi, sto parlando del Napoli, non li ha nessuno, però come tipo di gioco il Napoli se la gioca alla pari, perché è praticamente perfetto, perché può gestire la partita, cioè può aspettare colpirti in contropiede ma può tenere in mano la partita come fa sempre nel possesso di palla, non ha punti deboli e vedo che c'è una grande sintonia nell'atteggiamento del campo, del campo, nell'atteggiamento del corpo quando giocano, questo è fondamentale, perciò c'è un'unione di fondo, perciò saranno un'unica cosa per dare una soddisfazione ai tifosi del Napoli, ma credendoci, essere consapevoli di potercela fare. Poi ripeto, il Real Madrid è una squadra che gioca sempre per vincere e non si può permettere, avendo, giocando in caso la prima, di gestire il risultato, non esiste, neanche se sei 2-0, 2-1, 4-0, Napoli ti sta vicino, i napoletani ti stanno vicino in qualsiasi momento e questi giocatori l'hanno capito, ce la potete fare, stavo dicendo ce la possiamo fare, ma mi sento assolutamente parte di voi e con voi, veramente un bocca al lupo perché c'è la possibilità e la qualità per poter passare il turno. Questo numero mi ricorda cose piacevoli, ma soprattutto questi colori mi ricordano cose piacevoli. Bene, mi fa molto piacere. È assolutamente, l'ho dimostrato nel tempo, sono passati tanti anni da quando sono andato io, però l'affetto e l'amore che mi danno i napoletani non me l'ha dato nessuno, assolutamente, nel tempo. Bene, salvatore. Grazie. Grazie a te. Grazie a te.